Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti, vostro tecnico digitale e oggi vi porto una piccola novità. Una piccola novità perché dopo tanto tempo, dopo alcune richieste non dal mondo dell'online ma dal mondo dell'offline, ho portato a voi e anche a loro un mini videocorso un mini videocorso dove vi spiego passo passo come risolvere i piccoli problemi della televisione di internet e di poter fare un po' di domotica. Sì perché c'è all'interno di questo mini videocorso perché è veramente piccolo, è corto, un paio d'ore all'incirca di registrazione dove io vi spiego passo passo come risolvere quei piccoli problemi che avete quando state a casa, cioè non si vede più la televisione, il cavo HDMI non funziona più, la rete wifi è obsoleta, si blocca, dovete cambiare un access point, tutte queste piccole cose, è rarchiuso in questo videocorso e per voi voglio farvi un omaggio, sì voglio metterlo solo per voi, per i nuovi, per questa offerta è valida per 5 giorni a partire da oggi, per questi 5 giorni il prezzo sarà il 50% di meno, quindi a sole 9,90 euro, non c'è nessuna spedizione, non c'è nessuna niente, in pratica vi arriverà il corso, il link ve lo lascio qui sotto in descrizione, potete vederlo e rivederlo sempre, non avete limiti di tempo, non avete niente, basta che mettete il link, fate l'acquisto e avete il videocorso. Ogni volta che avete qualche problema con la connessione, con internet, con la televisione, con sky, perché c'è anche, ho fatto anche un modo dedicato su tutta la parte tecnica di sky, dove vi spiego passo passo tutti i problemi e come poterli risolvere, li ho messi tutti dentro questo videocorso, quindi spero che sia utile, mi raccomando lascia un like e iscriviti al canale e approfitta subito dell'offerta, mi raccomando hai 5 giorni di tempo a partire da oggi, da sabato e una volta acquistato l'avrai sempre e te lo porterai con te anche con una applicazione, sì perché attraverso la piattaforma Udemy potrai vedere questo videocorso, quindi tu lo puoi scaricare tranquillamente, scarichi l'applicazione di Udemy, ti vedi il corso e risolvi il problema, quindi per questo video è tutto, ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, ciao!